Ben trovati, di solito quando arriva a casa una busta dell'Agenzia delle Entrate contenente un accertamento viviamo tutti angoscia, preoccupazione, timore, insomma certamente sono giornate che non avremmo mai voluto vivere. Io non ho ricevuto un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, lo chiedo. Penserete che sono pazzo? No, vi spiego subito perché non sono pazzo. Ma prima di fare questo cerchiamo di analizzare assieme in modo sintetico quello che per lo Stato può essere ad esempio un cittadino modello. Intanto però prendiamo una categoria, la categoria quella cattiva dei liberi professionisti sono coloro che liberamente possono decidere di essere bravi o cattivi. Però tra i liberi professionisti vorrei prendere un esempio particolare. Analizziamo l'amministratore di condominio, questa figura, in modo sintetico. L'amministratore di condominio amministra i suoi condomini, i quali una volta all'anno nelle sedute assembleari decidono assieme all'amministratore, quindi scrivono e deliberano, quelli che sono tutti i compensi che dovrà percepire l'amministratore. L'amministratore poi nel corso dell'anno amministrativo dei condomini emetterà le sue fatturazioni in conformità a ciò che è stato deliberato e dunque dal conto corrente esclusivo di ogni singolo condominio preleverà il denaro depositando con bonifico bancario il denaro corrispondente ad ogni singola fattura sul conto corrente dell'amministratore. All'interno del conto corrente dell'amministratore quindi verranno pagate le tasse e prelevate tutte quelle spese documentate che occorrono per l'attività di amministratore. Quel poco che lo Stato lascia a disposizione per campare, l'amministratore in questo specifico caso lo preleva gradualmente nel contesto dell'anno bonificandolo completamente al 100% sul conto corrente personale. Quel conto corrente che serve per vivere. Attenzione! Dal conto corrente personale, da lì chiaramente saranno pagati ad esempio i mutui, per scelta in questo caso l'amministratore non ha Bancomat ma solo carta di credito e il 98% e non è un numero a caso ma è analizzato di tutte le spese che servono per vivere alimentari, spese della casa, famiglia, vita, vengono pagate tutte tramite moneta elettronica quindi carta di credito. Un solo misero 2% che veramente è misero verrà prelevato in contanti allo sportello in banca per pagarsi ad esempio il caffè, la colazione o ogni tanto un aperitivo in compagnia della famiglia o degli amici. Dunque in questo caso abbiamo analizzato quello che viene definito un cittadino modello colui che deve essere premiato dallo Stato, così ci sentiamo dire. Quindi in questo caso lo strumento che ha soppiantato e quindi che si sostituisce agli studi di settore che viene chiamato ISA, certamente premierà questo amministratore certamente riconoscendogli il massimo del punteggio. Sapete in questo caso specifico quanto è l'ISA di questo amministratore di condominio? Il 3 e 24 su un minimo di 6, come a scuola la sufficienza è 6, 10 è il massimo e se l'ISA indica un parametro che almeno sia pari a 6 fino a 10 si è premiati dallo Stato, ovvero con l'esenzione di possibili controlli e accertamenti. Al di sotto del 6, chi sono coloro che sono al di sotto del 6? Certamente sono soggetti brutti, cattivi, possibili evasori e persone quindi che potranno essere sottoposti ad accertamento. Intanto precisiamo il perché ho analizzato la categoria degli amministratori di condominio perché gli amministratori di condominio, diciamo per patto contrattuale sono costretti ad emettere le fatture su ogni singolo ricavo che chiaramente uscirà da ogni singolo conto corrente dei vari condomini e dai conti correnti dei condomini certamente non può uscire un solo centesimo parliamoci chiaro a nero perché tutto rientra nella fiscalità del condominio nel 770 del condominio, quindi l'amministratori di condominio è quella categoria esente completamente dal nero. Questa è la frase esatta. So cosa alcuni di voi stanno pensando. Certo la categoria degli amministratori di condominio è quella categoria che da una parte sono bravi, sono costretti a fatturare tutto, ma dall'altra parte sono anche coloro che per sentito dire e per frase generalizzata percepiscono le mazzette dalle imprese e dai fornitori che fanno lavorare. Voglio precisare che in questo caso specifico non esiste e mai è esistita una casistica di questa natura. Sapete perché non esiste in questo caso specifico questa tipologia di gestione? perché l'amministratore in questione sono io. Quindi o sono un pazzo scatenato nel registrare questo video consapevole di avere qualche piccolo o grosso scheletro nell'armadio o altrimenti ciò che dico corrisponde esattamente alla linearità e alla verità. Badate, non voglio essere giudicato come paladino dell'onestà. voglio semplicemente che passi il messaggio che il mio stile di lavoro è tale che in vita mia a 28 anni che faccio l'amministratore del condominio non ho mai percepito un solo centesimo fuori del mio lavoro, un solo centesimo a nero perché questa è la frase che viene capita e percepita a casa dalle ditte e dai fornitori che faccio lavorare semplicemente perché voglio essere libero di contestare quel lavoro senza che il fornitore mi punti il dito dicendomi che anch'io comunque ho avuto il mio interesse. Quindi vi garantisco che se non ad oggi mai è capitata una cosa di questo tipo e mai capiterà in futuro. Ed ecco che torniamo a quella analisi che abbiamo fatto prima nel contesto del quale dovrebbe e dovrei essere un rappresentante di quella categoria che viene definita cittadino modello. Ma non è così. ISA 3,24. Brutto, cattivo, potenziale, evasore. E quindi sottoposto a possibile accertamento. Ecco perché non avendo ricevuto nessun accertamento richiedo l'accertamento. Lo richiedo semplicemente perché consapevole dell'analisi di tutta quella che è la mia gestione, consapevoli dell'analisi di ciò che è il mio comportamento come cittadino onesto e ho la consapevolezza di dirlo semplicemente per dimostrare che l'ISA è uno strumento fallimentare che nel mio caso ha palesemente, chiaramente fallito, ponendo nelle condizioni il cittadino onesto nel sentirsi al pari di cosa? Di una cacca. E mi scuso per l'espressione oxfordiana. Ripeto e concludo con questo video che io sono la dimostrazione effettiva che l'ISA è uno strumento fallimentare e che condanne cittadini onesti e che invece in altri casi con l'ISA ben superiori al 6 e quindi rientranti in quella categoria di soggetti tra virgolette bravi, apprezzabili e che saranno premiati senza possibili accertamenti, ma che nella realtà dei fatti il nero lo fanno o se se lo fanno è anche tanto. Quindi ancora una volta abbiamo uno strumento che è stato istituito per analizzare, per contrastare l'evasione fiscale, per riuscire a premiare i cittadini onesti e in questo caso questo strumento condanna i cittadini onesti mettendogli la stregua dei delinquenti facendoli sentire delle cacche e va a premiare il furbetto che mette assieme correttamente i numeri, i coefficienti, l'analisi, il reddito, il volume d'affari, ma che continua e continuerà a fare del nero. Con questo ho detto tutto, vi ringrazio e al prossimo video. Grazie. Grazie a tutti.